Il nuovo I'm an Observation Duty. Che cos'è I'm an Observation Duty? È un gioco che io uso giocare insieme a voi perché noi siamo dei controllori, siamo delle persone che lavorano per la sicurezza di vari posti e dobbiamo controllare quindi le telecamere di sorveglianza e capire se succede qualcosa all'interno delle stanze dove sono riposte queste videocamere. Chiaramente si parla di paranormale quindi non stiamo cercando i ladri ok? Stiamo cercando cose paranormali quindi oggetti che appaiono, oggetti che scompaiono, porte che si chiudono, oggetti che si muovono, che spariscono, presenze che appaiono, un sacco di cose interessanti. Ciao G9, bello. Non mi piace a saperlo scivo a fare l'amore. No, la so sta che poi fai i figli. Buonasera Ifrid. Se mi appare mafo è finita. Quindi noi dobbiamo essere bravi, noi perché io non ci gioco da sola a sto gioco, ci siamo a me. Dobbiamo essere bravi a individuare le differenze. È anche un po' come il gioco della memoria, ok? Bisogna capire se da una stanza all'altra, passando con la telecamera, cambia qualcosa oppure no. Quindi ditemi quando siete pronti, che si parte a cannone, a sganawanone. Ecco. Ah, ecco l'acqua. Ragazzo sta all'acqua. Buonasera Anto, buonasera Rosanna, buonasera Dani, buonasera Dragon, Gaetano. Ciao Nicolas. Grazie a Nocipa per il quindici mesi e tier one, grazie mille. Datemi un secondo che vado a prendere... Eh no, ma la sigaretta è la non la posso fumare su sto cazzo di TikTok, che coglioni. Ciao Anthony. Allora, dobbiamo selezionare un livello, sono tutti i livelli nuovi, calcola, ce ne stanno veramente un botto. Treno, hotel, ospedale, università, summer cottage e pool. Scena sarebbe. Da che proviamo? Da che partiamo? Train? Ah, così? Pensavo fosse una schermata... C'entra questo e tra in Italia. Oh no, 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 che è? Attention, employee. Anomalies have been previously sighted in the monitored area. Pay extremely close attention to the surveillance camera footage. File an anomaly report as up when you notice something has changed. Wow. Ah, ma guarda che carino, è un treno con... come si chiama? Creepy. Ricordiamoci tutto, ragazzi. Cabina qua di pilotaggio, di controllo. Bisogna probabilmente memorizzare anche i tasti, televisori, due, tre. Bottia di Coca-Cola, trolley, tramezzino, acqua, i sedili probabilmente, l'estintore, qualsiasi cosa. I monitor sopra, la valigia qua sopra. Poi qua, rivista, c'è schiello, c'è schiello. Insomma, come cazzo si segnala la roba qua? Poi, due stampelle, spazzolino, dentifricio, due cuscini, due cose, il peluche. Ancora. C'è una tipa nella seconda schermata? È possibile, sì, già c'è stata la tipa. Qua non mi ricordo che cazzo c'era. C'era. Qui mi sembra tutto normale. Possono cambiare anche le fotografie? Nel vetro? Ma mai vero, non c'è niente. Ah, ma guarda come l'hanno migliorato! Adesso praticamente ci devi semplicemente cliccare sopra. Questo statile era qua così, raga? Mica, cominciamo, eh. Controllate bene anche fuori che non ci siano cose. La sedia no? Quale sedia? Quale sedia? Quale sedia? Quale sedia? Quale sedia? La sedia si è mossa, sì. Ma guarda come l'hanno fatto figo! Anomale è... Anomale è... Eccoci, fixata, ok. Era girata, ok. Trolli ancora lì. Ok, 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 ci abbiamo, ci abbiamo. E qua è più difficile perché, cazzo ne so, la coca, la coca c'era già. Qui che cosa c'era? Il secchiello, può cambiare il secchiello, lo specchio, probabilmente qua appare qualcosa qui, che cazzo ne so. Il giubbottino. La coca era lì. Lo sportello del bar era aperto? Quale? Oh mio Dio, era aperto questo, no? Vediamo? C'è la cacca nel butter? Una persona... No, Anomale is found, era già aperto. Attenzione a segnalare le cose che sono già state... Cioè che non esiste... Questo che cazzo è? Ah, c'era questo? Il peluccio era più vicino, ora è più lontano? Ah, sì. Sei sicuro? Era qua? No, regà, porco due, stiamo per morire, eh, ve lo dico. Pure qua potrebbero cambiare i disegni. Vabbè, ma all'inizio ci vuole un po' per impararle, eh, le cose. Ci vuole un po'. Il cartello è spostato? Il menu? Questo? Bravi, 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 bravissimi. Bravi, bravissimi. Ma il troller non era più lontano? I don't know. Grazie mille per il follow, TikTok. Baba Newry. Il troller è più lontano, regà? Oh no, no. Vi pare vicino? Eh, ma non te te vi pare che devi essere sicuro. Estintore? Dove? L'estintore dove? Oddio. Ah, ok, è passata un'ora, è passata un'ora. Dove l'estintore? In quale scena? Dove si guida? Oh shit, ma che cazzo c'è fa questo coso qua? Bravi, vedi? Come farei senza te voi? Bravi. Bravissimi. Bravissimi. Grazie per il follow, TikTok, benvenutissimi. Stiamo cercando delle anomalie, perché stiamo giocando al nuovissimo I'm on Observation di Uri. Dobbiamo cercare di capire se cambia qualcosa tra una scena e l'altra, in tutta la scena. Potrebbe essere qualsiasi cosa, un oggetto che c'è, poi non c'è, si esposta, cambia. Qualsiasi cosa, rega, veramente tutto? E le presenze che appaiono, però finora non sono ancora apparse. Potrebbero anche cambiare i pulsanti, per dire, quindi è mega difficile. Il trolley si è girato, non è vero, è sempre uguale a prima. Dubito che non stia cambiando niente, evidentemente siamo noi che non ci stiamo accorgendo. Il cartello non era più vicino, ma il cartello... Quale cartello, scusa? C'è una tipa a testa in giù, al finestrino. Ma che è stato a dire, rega? Dio mio, questi cazzo tesoni mi fanno pi... Imminent collision? Che è sta cosa? Ma come imminent collision? Ok, ok, sistemato, sistemato, sistemato. Fixato. La tazzina, la leva era così? Nei sedili. Dovete guardare attentamente che non si è cambiato qualcosa, raga, tra una scena e l'altra. Questa, rega, era così o era più aperta? Scusate, non mi ricordo. Secondo voi? La persona, cioè, dove si trova l'altro estintore? Ma siete sicuri? Era aperta, rega, eh? A me sa. Era così? Era già così, ok. Non c'è nessuna persona, rega, non so se l'avete presa la persona, ma... Io non la vedo e non vedo manco un cazzo. Dove sarebbe sta tizia? Scusate, non c'è nulla. Guarda un po' jumpscare, rega, di va, eh. Nel bar c'era uno sportello aperto? Sì, prima l'ho segnalato e mi ha detto che non era così. Il cartello nero della cassa del bar. L'abbiamo già spostato questo? Era qua. Prima era se è sposato qua e l'abbiamo rimettuto a posto. Ho paura che tra una scena e l'altra appaia qualcosa. Tra l'altro... Questa carta era fuori? Il riflesso? La stanza prima del... Ma il riflesso dove, rega? Era così? Bicchiare sotto ai ribbonetti della birra? Mu' appare qualche cazzarolo, eh. Il panino c'era. Ma erano due tramezzini o era uno, minchia? Eh, tutto se te mori... Qui che c'è? Una lucetta? Che re qua? Ha preso fuoco il cestino? Ok, era questa. Grazie Double Wow. Grazie mille. Baby, per il sabbino. Oddio, c'è qualcosa che non va in questa stanza? Non so. Regà, qualcosa è cambiato, sì. Dove c'è il monitor? La prima leva è alzata. Questa? È alzata? Sei sicuro? Guarda che ci appare la presenza. No. Il bicchiere sotto la spilatrice al bar. Ma che senso? Comodino aperto della Gucci. Minchia, oh, ma sta a cambiare un cazzo qua. Ma non c'è nessun comodino aperto? Dove è il comodino aperto? Qual è il comodino aperto? Mamma... Mi sono ficcata letteralmente un dito nel cazzo di occhio. Perché mi stavo spostando le cuffie. Ma avete fatto sartà? Ti giuro, non ci vedo più un cazzo. Oh, ma che è sto sgabbello qua? Che cazzo succede? Oddio, regà, ce l'ho sfocato. Oddio, ho perso un occhio per farlo. Baby, come on, baby, come on. Cioè, non è tutto così palese, capito? Eccoci qua, seconda ora passa. Minchia passa troppo lento sto tempo. Non mi ricordo se il tramezzini era di due. Pure questi monitorini. Il ragazzo, beve troppo, devo fare pipì. Io... Oddio, potrebbero anche cambiare gli scalini qua. E attenzione. Exit. Minchia, cambia anche. Il vetro era così sporco, raga. Mi sa che lo devi togliere sto capellone? Minchia, davvero, mi fanno... Mi ammazzate ogni volta con sto cazzo di capellone. Oh, vi giuro. Era sporco? Il vetro è apposto, ok. Io, allora, questa penso che sia la stanza più difficile di tutti perché potrebbe tranquillamente cambiare un tasto e noi non ce ne accorgiamo. Eh! Eh, Montesea! Dio Cristo santo! Lo sapevo, cazzo. Eh, mo' c'era la persona. Io treno. In tutti i sensi. È che stavo pure sul treno. Grazie, Giulietti! Grazie Pille! Grazie Pille per la Sabina. Bentornata per i 24 mesi, grazie. Questa cosa qua che è? Cuori. 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 Che infami a metterlo lì, bastardi. Voi ho detto, mi sa che sto giro, sto sei, c'ha belle chicchette, eh, ve lo dico. A parte che finalmente l'hanno migliorato e se ci clicchi sopra, cioè, ti fa vedere, ti segnala il problema. Ma non devi lare, portà, kitchen, cose, ogni volta era a macello. Ah, regà, io devo far pipì però. Quindi aspettatemi un secondo, arrivo subito. A meno che non volete che vi lascio così e vi appare la presenza. Arrivo sobitos. A meno che vi lascio così e vi appare la presenza. A meno che vi lascio così e vi appare la presenza. A meno che vi lascio così e vi appare la presenza. A meno che vi lascio così e vi appare la presenza. A meno che vi lascio così e vi appare la presenza. Eccoci. Ma torniamo a noi Signori Resume Allora Me state sul pezzo O non me state Scambiate le luci del computer Come la cazzo avete fatto Comunque regà Questa c'era Questa non c'era Che c'è fare manichetta Grazie Giuliette Grazie mille Grazie mille Grazie mille per la Sabina Buonasera Secondo me questo non c'era Buonasera faccina Che bacia C'era Le luci del monitor So cambiate No So uguali Questo uguale Questo me sembra uguale Questo pure me sembra uguale Più o meno La bottiglia di gola Era vicino al tramezzino No La bottiglia di gola Era dietro Era così Era tutto così Era tutto così qua La porta aperta nella cabina Oh shit Chiudi immediatamente Ciao Shad Benvenuta Grazie mille per il follow Benvenuti a tutte le persone Che hanno lasciato il follow Sul canale di Toc Sappiate che io sono live Anche e soprattutto In realtà Prima di tutto Su Twitch E poi trasmetto in contemporanea Su Twitch Anche qua su TikTok La parte del gameplay E quindi insomma Se vi fa piacere Passare a trovarmi Anche su Twitch Sono contenta Mi sembra strano Che non sia mai cambiato Un cazzo Capito Mi puzza un po' Secondo me poi Una di queste non c'era I cronometri della stanza Di controllo Sono 4 e non 3 Santa Maria de Dio Eeeh Mo che d'è sto fumo Mo che d'è sto fumo Sta più affacare la macchina Grazie Giulietti Grazie mille per i sabini Come un anomalist Come faccio Giulia boss E cazzo Devo clicca Scusate ma sto fumo Come lo clicco Ho capito frate Cioè No anomalist Cioè Eeeh Il capoterno Se sta a fare una canna sotto Io che cazzo faccio Come faccio Scusami Come faccio Dov'è il fumo più bianco Oh No anomalist Da dove cazzo viene Sta cosa L'estintore Ma non c'è l'estintore Che cosa clicco Sì adesso c'era Ah regà Veramente Non si sa qui Dove devi cliccare Per sto vapore Eeeh Zio Pera Regà Non so che di Eeeh Pure la presenza qua Perché non me la fa Analizzà Che vuol di Eccoci qua Eeeh Tu mani anomalist Sì ma ho capito Ma Eeeh Ho capito frate Ma se non me fai Cioè Ah Eeeh Abyss Che cazzo è Ghost Passenger Che cazzo ne so Chi è Lostess Ah dove Ok Passenger Questa sarà Dio mio Che ne so Ha cambiato tutto qua Ok 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 L'ha preso L'ha preso L'ha preso L'ha preso L'ha preso L'ha preso Però io non capisco Come facciamo a Abisso Distortion Che cos'è A smoke Che cazzo l'avevo visto Private dining drivers Eeeh Minchia però Cioè E che cazzo ne sapevo Meno male Regà Eh vabbè abbiamo imparato una cosa nuova Vedi Ecco Ma ci manca pure questa Alcune cose sono cliccabili Altre no La porta del bagno è aperta La porta del bagno è aperta Cazzo Orchiamennetti Tu devo cliccabili Cioè è proprio sparita la porta Ok È giusto Che che occhio che c'avete io Non avevo vista Oh però Non sa sta mancava male Nonostante sia la prima volta E solitamente la prima volta Sempre macello Ecco qua Ci mancava solo Il cadavro Qua va E il cadavere nel letto Ci mancava La prima leva era alzata Dici Un po' complicato no Non è complicato Tipo il gioco della memoria Però horror Questa era alzata Io mi ricordo che era alzata Ma ci proviamo Non credo no Un catavero morto Un catavero è difficile Che sia vivo Effettivamente Mi fa sta Cioè ci sono Tanti oggetti Troppi Oh questo Questo non c'era Il bicchiere non c'era qua Fantasma Si sta più a birra gratis Non ci siamo Buonasera Giga Chad Ma come no Ma c'è La tastiera davanti La sedia del pilota Eh che c'ha C'era Chi cazzo l'aveva visto Finora La tastiera davanti E beh Che c'ha Il cassetto Dei bicchieri Aperto No Lo sportello Se intendi lo sportello No Quello è sempre stato aperto Di orologi pure Buonasera Lodi Ti ho spostato la tazzina Oh è cambiata l'immagine Guarda se c'è una mignotta Non ci sta più la donna Di avere l'occhio acuto Frate L'occhio acuto I tasti rotondi Con la rica bianca Non c'erano Primo sbaglio I tasti rotondi Con la rica bianca Oh Oh che madonna So ste improntine Mi sa che non me le fa Detectare però Con questo Mi sa che lo fa Col tasto destro Ah no non è vero si Che cos'è che dove I tasti Con la rica bianca C'erano questi C'erano C'erano Santa Maria De Dio Anzi no Mi sa che non me lo fa E portà così Ma no invece si Invece si Cazzo Ma noi proviamo tutti Si guarda Stiamo andando bene Comunque guarda Che questo non è difficile Erano più difficili Gli altri Di Observation Duty Questo Cominciasse un pochino Più facile La porta del bagno In basso Aveva la presa d'aria Dio Scarpetti Che impressione Comunque quando Cambiano così Hanno veramente Impressioni Che cosa ci stava Da mezz'ora Ma che cazzo È questo Ma non c'ha la testa E manco il pene E c'ha la pazza D'arcolizzato Quindi questo palese Si ruba Tutte le bire Del banco È lui Abbiamo trovato Chi è Voglio che sta Oddio Rega ma ce l'ha la testa È tutto È tutto Un cart Segnala 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 Oh Cristo Dio Io treno C'era una persona La porta Ma era quello Lì che è arrivato Poi E che cazzo Aveva visto Ma dove Quale porta L'avevi visto È quello Del finestrino Sì Sto cercando Di entrare Nel treno Sto bastardo Balordone Oh Marcesso Qua c'era Era aperto Era aperto Il cesso Non mi agguardo Non mi agguardo Sala comandi La seconda leva Era alzata Ma questa Ragazzi Ho tre ore Che clicco su Le leve Non era alzata Questa Era quello Che ho beccato La porta Buonasera Buonasera Sala 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 Mese Non si è mosso De pezzo Che nervoso Mancano delle cose Qui Non era messo Così qua No no Non era messo Così Sono sicura La tazza Eh Vedi Rivista e tazzina Dove cazzo stanno Eccoci Il borsone è andato via Il borsone è andato No c'è Di vista c'è Qui c'è tutto Ma raga Secondo me In sto bagno C'è qualcosa Che non va E non avevamo mai saputo La tazzina Abbiamo cambiata Le grucce erano sempre state due Sempre così Normali La porta del bagno è sempre stata verde Hai sentito che Toczumir Hanno messo Così Violente e pauroso L'hanno messo dopo Secondo me è violentissimo C'è una scena Super violenta Che secondo me Le fa tu Cioè Basta quella È veramente pesante Alle 6 di mattina Raga Finisce il turno Quindi ci abbiamo ancora un po' Ancora un po' Chito Ma suave Penso che del treno Sia solo quello Lo stronzo Cartello Indarum Che significa Cazzo è Uno scheletro maledetto Eh non mi ricordo Se il cesto era aperto O meno Il segnale Exit Della cabina Hai ragione Non è più Instant suffering Adesso diventa Suffering Cioè È palesemente Exit La bottiglia Vicino al tramezzino No Quella è uguale Raga Quella è uguale Sì Sempre stata così Tramezzino Doppio O qua Non è mai cambiato un cazzo Solo una volta qua Sì Vabbè Questo è palesino Instant suffering Buonasera Invisibile Ciao Bubi Ciao No Mi dispiace Baby Questo bagno Mi nervosisce La porta è sempre stata verde C'è sempre avuto la cosa dell'aria Penso di sì Qui è tutto tranquillo Watson Buonasera Coem La collection Edition 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 Di che cosa La tazzina c'era Ed era scomparsa L'abbiamo fatta riapparire C'era sto trolley C'era sto trolley Tornera giallo Ma sto trolley è dentro Oddio raga Sta più succede qualcosa Buoni Sta più succede qualcosa C'è qualcuno Eccoci qua Abisso Bc Sarà abisso Tipo Minchia Se sappia Tutto se sappia Mamma mia Sì è uscito Quello nuovo Oddio Oddio Che sta succede Che cazzo è Che cazzo è Dunque il trolley giù c'era Ah l'unico sul tramezzino L'occhio dei bue sul tramezzino C'è qualcosa ragazzi ancora Perché questo rumore non è buono C'è qualcosa ancora che non riusciamo a individuare C'è qualche presenza Frate Il tramezzino è variato Il tramezzino è variato Frate Non è buono da mangiare Non è buono Il tramezzo Nella cabina Ma dove le vedete ste persone appese Ma dove le vedete ste persone appese Frate Ma forse fa sto rumore Perché siamo per avvicinarci alle 6 di mattina Dove regà Vi prego dove Ditemi dove Nel riflesso Nella cabina 4 E qual è la cabina 4 Nella cabina coi sedili Ma qua Cazzo fa A coca cola Cazzo fa a coca cola No non la vedo Non la vedo Cazzo Dove sta Una tizia appesa dove Ma qui Le sedie sono alzate Ma che ve fumate Qui E dove sta sta tizia appesa Scusatemi Ma io non vedo niente Ma che cosa vi trovi C'è la testa di una Fuori dall'estintore Beh Io non vedo niente Nel bel del più lontano Ma io vado un cazzo Ma che è Ma mi è stata a pià per culo Dai mi è stata a pià per culo Ma questa è una È una donna rivista Dai mi è stata a pià per culo Non devono cagare Su Ciao Meglo Manca poco eh Manca poco le sei Smettetela di trollare Coglionazzi E che cazzo Entra Pure le scritte possono cambiare Pure i quadri Non ne so Come troll Oh trolley Dove cazzo sta il trolley Dove cazzo sta il trolley Madonna Ria Non salirò mai più su un treno Questa musica Non promette bene Porca droia Sto stronzo Sto coglione You made it Two Paccato al bar Abbiamo fissato Fissato 30 anomalie Play again Quit Adesso facciamo un altro Sono carini eh Ce ne stanno tantissimi Cosa volete fare? Dopo abbiamo fatto il treno Possiamo fare l'hotel L'ospedale L'università Il cottage Il pool L'ospedale Fate un sondaggio Dai veloci sondaggio Veloci sondaggio Veloci sondaggio Veloci sondaggio Se volete votare Venite su twitch Belli di casa L'ospedale volete fare? Cioè volete morire? Subito così Su due piedi E gioco bello Quello bello Che regalava le sere Il sabello E gioco mello Gioco gioco mello E gioco mello Gioco gioco mello Grazie gioco mello Ma sta a fare sondaggio Un nuovo Hotel 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 No O ospedale Volete Ho capito Se sta a fare sondaggio Se Vero Una cifra Ciao Mish Da tiktok Grandissimo Iniziato a seguirti Con due account Twitch diversi Per supportarti Grazie Grazie Bello Vabbè Non sta a fare sondaggio Ok Non l'ha fatto Ah che facciamo Votate Hotel O ospedale Perché tutti Stai a votare uno Allora O l'hotel O l'ospedale Forza Votate Votate sopra La chat di twitch C'è la votazione Se volete votare Venite Nella chat di twitch Nel frattempo Mettiamo sotto Gazze De cose No dovete votare sopra Ragazzi Non in chat Dovete scriverlo sopra Votate 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 Signor Sopra Sopra C'è una votazione Sopra la chat Sia che siete a telefono Che da Che da pc C'è sopra la chat C'è una roba Oddio Guarda a destra Appare Natizia Ospedale Va bene Ospedale Sia Mmm Mo ve voglio Ospedale Vi dovete impegnare Guarda Quala roba Oddio Oddio Mamma mia Hai sentito un culo Lo so già Sia da hotel Chi è Guarda qua Quadro Tazzina Contenitore Contenitore purine Valese Fogli Due piante Due sedie Sgabellezzi Ciao Tastiere Due monitor Orologio Guardate bene l'ora Questa No E' Non c'è Non c'interessa Disposizione delle sedie Minchia Quanta roba Ragazzi qua eh mega ciaone questo è difficile sul serio se l'orologio segue l'aria è normale mamma mia questo bagno quanto è brutto vedo male quanto cazzo sono brutti comunque oh da quando ho visto talk to me gli ospedali non li vedo più nella stessa maniera soprattutto questi con questi bagni così mamma mia eh screen al volo preparo il pacemaker doccia qua così comunque il contenitore dell'urino la bilancia tre contenitori dell'urine e siamo qui di nuovo da capo due giornali giornali guarda qua la roba i quadri guardate bene i quadri camp holes istintore sedia pianta da rotelle morgue e isolation world mamma mia national doctor's day oddio mia shot televisore brutto sembra un pellicano due sedie foglie due piante contenitore pellurine ecco già cominciamo subito ad affogar secchio perfetto bello bello ciao francesco grazie bello sono in live su twitch se sentite che parlo con gente che non vedete in chat su tiktok ragazzi perché sono in live su twitch ma è un incubo voglio rifare il sondaggio l'avete avutato voi eh mamma aiutate sgabbello questo c'era oddio questo c'era rega no questo non c'era si questo non c'era 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 l'ora è cambiata si è normale che cambi perché passa l'ora normale che bello in bagno c'era ok qui cambiato qualcosa in reception examination eh qua tocca questa secondo me è la più difficile perché è pieno tipo di cosette qua potrebbero svuotarsi anzi questi eh rega l'ora è normale che sia cambiata perché va avanti l'orologio giusto funziona allora va avanti l'ora dici debbi eh si può essere questo qua era così national doctor's day ok questa è la stanza che mi mette più ansia no forse urca puttana a cazzo affatto ci hanno messi i miniciccioli sul vaso la madonna hanno messi i miniciccioli in entrando la pianta rega magari come meno troviamo qualcuno a gamba a gamba aperte questo al prossimo giro troppa roba monitor 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 è acceso che fa la luce è vero faceva la luce ciao Safia grazie mille per i sei mesi da bianca da bianca si la bianca c'era ma era acceso questo rega andiamo un po' a segnalarlo secondo me non era acceso no e allora ma non era acceso raga prima ora è andata ragazzi è cambiato un tavolino nella stanza con i letti che tavolino è cambiato non c'è nessun tavolino ma questo è doppio rega c'era prima siamo sicuri che c'era sì cartigenica cassetto aperto micchia rega ma pure qua c'è come cazzo famo a capire se cambia qualcosa ma quanta roba c'è spero sia palese restintore è cambiato ai piedi ma che cosa vai piano che ci stanno sono cambiate delle cose che cosa c'era il tavolino vicino alla parete questo è spostato vediamo no era così ah ma dici questo questo qui dite ragazzo dite ma sarebbe barare veronica la foto il telefono bicchiere sul letto bicchiere sul letto c'era ha regato stoccassa sul pezzo che questo è difficile ma puoi scusami è un'ombra questa no forse è la sedia normale isolation morg da vabbè piano piano si impara comunque il contenitore sul lavandino ehi c'è una piccola macchia di sangue una piccola macchietta di sangue sore che scende da sopra il robot dell'orine stava sullo specchio e non c'è stava più c'era sullo specchio questo c'era 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 questo si grazie per i follow tiktoks la venta della doccia è più aperta boh pure io vedo che c'è qualcosa di strano ma non credo che sia quella la tavoletta si è abbassata era alzata i quadri pure so era alzata questa sembra chiusa a me no dice che era chiusa ok sono cambiati i quadri qualcuno diceva ma quale quadri questi no questi mi sembrano mi sembrano uguali i quadri qua quali quadri però ragazzi mi vedete i quadri mi vedete la stanza mi vedete la stanza e che cosa ha cambiato mi parlo uguali i quadri secondo me è cambiato qualcosa ma non se ne siamo accorti stanza del ginecologo che ha fatto si è cambiato i quadri del ginecologo c'è troppa roba qua veramente un riflesso nel cor il sangue sulla bilancia il sangue sulla bilancia non c'era ciao naghi lobby quattro quadri ma siete sicuri che i quattro quadri sono diversi perché a me sembrano uguali i quattro quadri basta con questo orologio l'orologio è giusto mi sembrano uguali i quadri raga piuttosto state attenti alle sedie che siano uguali qua non è mai cambiato un cazzo strano pure qua stranissimo non è mai cambiato niente ma sto monitor è diventato piccolo ma scusami ma era così piccolo o forse questo è più grande c'è qualcosa che non va raga guardate la prospettiva è cambiata o no ma allora è questo più grande scusa ma che significa è più grande questo allora no raga è impossibile è questo che è piccolo no raga c'è qualcosa che non va e come fai a segnalare la prospettiva scusa la stanza del ginecologo che c'ha de male ma il compito era così raga o non era portatile maria santa prova i documenti sullo scaffale a destra dell'ufficio qua o no pure questi mare macana comunque è difficile ecco ci mancava pure il ragazzino porco due ci mancava solo il fantasma bambino ma la porta al ginecologo raga questo è cambiato questo mo è cambiato sì ora sì che è cambiato ciao ginevrina tra l'altro la porta del ginecologo manco ci sta quindi non capisco che cosa cassetto ginecologo perché poi è ginecologo mancano sete a rotelle andù nel lettino il cassetto delle rotelle c'è qua pure strano comunque che si è cambiato un cazzo qua dentro ancora raga very strange quale cassetto quale cassetto ah il cassetto del lettino cristo è vero bravi no e invece c'era era aperto il pc è acceso ma era acceso acceso da sempre a quanto pare perché ho provato a segnalarlo prima ma mi dice che non è buongiorno lì non è ragazzi non è non è un errore il cassettino qui lì c'è per me è un mistero per me rimane un mistero sto posto la sete a rotelle dove stanno i quadri la sete a rotelle dove stanno i quadri è giusto che stia là è giusto che sia qua c'è la sete a rotelle e c'è un cassettino il quadro l'ultimo è cambiato potrebbe essere non era così angosciante effettivamente prima bravi esatto exactly poi più va avanti più te la memorizzi più li fai più li memorizzi a me sembra tutto uguale qua pure qua cioè sta cosa che il computer è così piccolo la sete a pure mi fa scifuare il cervello però di fatto grazie Ale per la Sabina il quadro sopra al letto per quadro sopra al letto oh 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 questo che era oh non era così questo prima eh 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 quadro sopra al letto è sempre stato questa casetta questa baita la sedia a sinistra dell'ufficio è spostata la sedia a sinistra questa bisogna è tipo il gioco della memoria Liz da una schermata all'altra no niente cambiano cambiano delle cose tu devi capire che cosa è che cambia la finestra è aperta dove ci sono i dettini cambia un cazzo qua regà bella vincenzo questa non c'era regà non era così angosciente ed è passata anche la prossima ancora tre ore a me sto coso nero ogni volta mi mette paura peggio sembra qualcuno appollaiato è regà la stanza con i letti il contatore vicino e dove sta sto contatore ad onde sta lo contatore comunque qua non c'è non abbiamo segnalato un cazzo qui dentro raga sì l'ospedale è una merda infatti è troppo angosciante e poi minchia ma poi se c'è ma questa è l'ombra della sedia probabilmente il cassetto sotto al lettino ma quello era aperto quello era già aperto pure prima l'abbiamo segnalato ma niente sicura che qua è cambiato qualcosa ma non riesca a individuarlo la sedia del pc con lo schermo attivo ci avevo pensato anch'io ma credo che sia così da sempre questa qua proviamola ma non credo che sia stanza con la sedia a rotelle alla fine c'è un muro prima non c'è e non c'era questo dici? ma no e le foto sul tavolo quale? corridoio non ti posso leggere il suo messaggio lungo perché altrimenti mi perdo delle cose nel gioco la bilancia è sempre stata così spostata non erano due le sedia a rotelle nel corridoio no era un lettino e una sede a rotelle oh Gesù Cristo attention employ we are receiving readings of multiple active no raga ci sono multiple ci sono cambiate mille cose e non ce ne siamo neanche resi conto sarà un po' va tutta puttane l'orologio è bloccato hai ragione ok sì però ce ne stanno troppe ragazzi è troppo difficile sta cosa è esageratamente difficile sta cosa che cazzo una testa zio pera la finestra dove stanno i letti che c'ha de male ma qua dici il muro 3ps bravo è vero è vero è vero la finestra non c'ha niente raga qua c'è la tazza però sì sì l'ho tolto il muro l'ho tolto a posto qui per me non è possibile proprio definire un cambiamento la porticina sta aperta le finestre aperte ma di questo oh sto bagno solo rinonato volante c'era e beh ce n'erò oggi troppo volantini c'è uno scheletro cazzo prima non c'era uno scheletro cazzo troppi fogli dov'è che erano troppi fogli qua raga qua non l'abbiamo individuato un cazzo ragazzi qui gli sono i computer dell'orologio sono aperte le finestre ma se erano sempre state aperte ragazzi i schedari di fianco alla porta ma questi non riesco a individuare nessun cambiamento grazie per i curicini ragazzi ciao luca grazie grazie anche a mary dai raga mancano due ore ce la possiamo fa vi prego stiamo individuando un cazzo di niente però dove sta la sala con la sedia a rotelle la porticina dove star caputana abis vc lo specchio del bagno vediamo no nine questa c'era raga questa non c'era zi porca merda non ho sbagliata voi dite la finestra secondo me la finestra era giusta però provamoci a banderina l'america eh bisogna stare attenti qua sta ma caga fuori dal vaso mi sa nel corridoio ha cambiato un poster nel corridoio è cambiato un poster ma raga ma non mi gira la testa a me vero vedete anche voi che c'è distruzione santa madonna vi giuro vomito cristo santo dico che cazzo è ecco allora considerate che quando soffrite di vertigini vedete tutto così io ci ho sofferto per un periodo da pazzi vedete tutte le cose così prova i libri sopra la stampante ah national doctor's day no era giusto che ha fatto il ginecologo lucina in fondo raga ma dovete dire dove la mette di legno sopra la stampante no ma su sto cazzo d'ufficio ci deve essere qualcosa questa qui non so io segnalo ma buffo raga perché veramente cioè mi sembra proprio che infatti non c'è stata nessuna anomalia cristo santo è difficile la seconda porta nel corridoio è la finestra aperta ma quelle non sono mai cambiate raga siete sicuri di questo anche perché non so quanto se possa rischiamo di 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 perdere perché se facciamo troppe segnalazioni che non sono giuste la sede rotelle oh si opera che cazzo aveva visto stava guardando i manifesti non ho vista la sede rotelle non la sede rotelle l'ho vista ho vista ok ho vista ok ok a me mi sembra troppo strano che qua succeda poca roba poi qua non ne parliamo proprio era la sede che guardava me la stampante che si trova nell'ufficio ok e che cosa ci devo fare questa stampante è sempre stata così sì o no la sede con le rotelle qua dici i libri questi o questi era bianca ah potrebbe essere no c'è la rotella quale questa sto a far caso però mo perdiamo e a un'ora a un'ora mi dispiace perde sinceramente dio santo cristo gesù il ginecologo è quello eh no non è quello giù quello è sempre stato acceso l'ho provato a segnalare ma ha detto che no era così mancano le due sedie nella sala d'aspetto questa e quale sedie mancano queste queste vero ah regà manca un'ora dobbiamo resistere solo una cazzo di ora eccoci qua è l'ultima ora è l'ultima ora è quella più pesante si opera poster corridoio ah plug day è vero non era così era diverso manca manca una sedia da ginecologo sgabbello è spostato siamo sicuri che queste erano due sedie non è che era diverso prima non è che queste sono sedie siamo sicuri che c'era il divano il poster ma dove il poster dove si dal ginecologo c'è un poster che non era poster quale stretching medical è giusto oh lo scappello cazzo ok 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 fatto 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 calmi è sangue freddo perché manca pochissimo alla conclusione l'estintore che cazzo è fatto sotto sopra il dispenser della carta in bagno c'era non lo so adesso controlliamo dispenser della carta in bagno si mi pare che c'era si questo bagno è cambiata poco poca roba comunque mi sembra troppo strano cubo per terra dove raga manca pochissimo concentratevi no questi sono sempre stati qua manca mezz'ora trenta bagno è giusta qua è giusto la libreria è vuota il letto nella stanza no nessun occhio luminoso sotto al letto dai manca poco sarà d'attesa dietro in angolo in basso a destra oddio regà porta aperta ma della sala d'attesa al terzo quadro qua regà non è successo un cazzo cioè la stanza più inquietante di tutte non è successo un cazzo boh questo è cambiato questo è cambiato siete sicuri oh regà dieci minuti ma dieci minuti si ci è acceso dal ginecologo ma che sta a dire davvero sanda 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 maria si opera no no il pc è spento che cazzo è che cazzo è dai 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 ultimo check you made it 27 meno di prima prima siamo stati più bravi siamo stati più bravi prima le maniglie nello specchio eh basta tavoletta nera della tazza ce l'abbiamo fatto no mi sono sbagliata zio vera aspetta come pre again allora abbiamo fatto treno e ospedale ci manca ancora hotel università piscina e summer cottage fate un sondaggio tra questi quattro hotel università summer cottage e pool votate ciao milky rose il gioco si chiama I'm an observation duty in realtà ce l'avete nella grafica di di tiktok sotto c'è proprio la grafichetta raga ed è uscito praticamente qualche giorno fa ma è una serie I'm an observation duty perché sono usciti sei di questi quindi immaginate quanto ce ne stanno questo ultimo è migliorato tantissimo è appunto uscito qualche giorno fa e sostanzialmente è tipo il gioco della memoria però horror e quindi devi switchare devi cambiare le telecamere da una stanza all'altra e capire se cambiando cambia anche qualcosa all'interno della stanza stessa che ne so ci possono essere le porte che si aprono si chiudono gli oggetti che si spostano qualcosa che fluttua degli spiriti delle presenze qualche demone cioè un sacco di cose possono cambiare però non cambiano molto frequentemente quindi devi stare molto attento perché possono cambiare anche gli oggetti e delle volte ci sono veramente un sacco di oggetti per votare c'è la votazione aperta su Twitch se non avete Twitch scaricatelo perché è gratis e potete votare almeno di là io sono sempre live su Twitch tutte le sere dalla domenica al giovedì dalle 19.30 alle 23.23.30 sta vincendo l'hotel vi volete male questo gioco fa capire che se entrassero ladri ordinati in stanza anche se rubassero tv non ci accorgeremo di nulla beh no vabbè dai abbiamo hotel ha vinto ok c'abbiamo abbastanza occhio grazie per il cuoricino Luca è l'hotel ok l'hotel Outlook Manor quindi ricordiamoci tutto ricordiamoci il leone ricordiamoci la macchina in questa posizione che è rossa ricordiamoci le valigie bianca e rossa una su una giù tombino tratte lampione lampione luce 1 2 3 4 5 finestre dell'evade eccoci qua la lobby capirai più di dio 1 2 piante 3 piante 3 fogli computer acceso porca puttana grazie Nick Podda grazie mille per la tier one libreria libreria ci abbiamo quadri girasole donna uomo sto pari quello di Hunger Games divani tavolo ok poi secondo piano uscita in vergenza ricordatevi i nomi lampada poltrone e leone in fondo le piante una grande una piccola lampadario questo acceso questo spento questo acceso del leone corridoio lunghissimo stanza è la 200 qua madonna regà questi sono i ricordi del fred del fred del vietnam i flashback del vietnam con Jimmy quale shining si shining e fiammetta chiaramente ma Jimmy si at dead of night si grazie Giacominello bello carinello grazie lello mano letto fatto Giacomo sottolineatura 5998 gift dati lo del Jimmy era tremendo qui c'è nager grazie Giacomello bello 2 3 4 spoltelli cappello bicchiere tsunami Giacomo sottolineatura 5998 gift dati capire guarda qua qua regà tocca a studiassere un attimo sono 4 sgabbelli 3 sedie 2 cose qua erano giusti bottiglie birra bicchieri non c'è un cazzo fuori pianoforte scarlettina grazie piccolina e ricominciamo vabbè dai occhio a Jimmy Pettos dai dai ma il signore non era così cazzo c'ha testa a pinolo che è venuta è venuta testa a pinolo il signore guarda il signore che aveva testa a pinolo prima non ce l'aveva tre fogli pianta 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 la porta è chiusa qua il leone ce l'aveva lo scudo la porta è aperta qua se vedono le scale ricordatevelo qua 204 carrellino carellotto scopettotto questo così ok televisorino le due tazzine con la tazza qua c'era il leone sopra l'ingresso fuori c'è c'era no c'era c'era se cazzo esce fuori mo qua de notte altro che signore che la testa a pinolo è tornata normale i fiori il computer acceso quale frigo madonna raga a me mi sta arrivando fame ma come si fa a campare così in sta maniera che una ai 10 di sera viene fame a me non mi viene fame durante tutto il giorno viene fame ai 10 di sera ma come è possibile grazie fedekiro grazie mille per i 18 baby frigo bar frigo bar frigo bar dico bar questo beh che c'è qua che c'è il frigo bar la porta quale porta nella lobby il carriera la vuoto credo di sì il frigorifero è aperto nel bar ma no questa è la vetrinetta grazie serlo per il prime grazie tesoro questa è la vetrinetta vedete è chiusa è solo che è trasparente c'era pure prima no la vetrinetta raga guardatevi queste le finestre il leone outlook manor ricordatevi distortion niente niente insomma tra le 11 e le 11 e mezza si stacca la mano c'era questo c'era tutto c'era qui penso che sia la parte più difficile secondo me la porta secondo me era chiusa è chiusa no sapete che mi sento meglio a stare fuori mi sa che rimarrò di fuori mi sa che rimarrò di fuori guardate pure le finestre se spuntà qualcuno e lights lights lobby le frecce il bar era già aperto non era così il frigo bar allora proviamo a segnalare il frigo bar ma tu dici lo sportello o questo non lo so mi pare che fosse così dall'inizio infatti scivola biancheria dal cesto eh no raga era così è sempre stato così biancheria portello è sempre aperto sì ok pure questo è difficile secondo me sta parte qua soprattutto i cassetti le cose comunque con tutte queste cose degli hotel ogni volta che vado in giro che vado negli hotel da sola mi piace male e ci vado spesso da sola perché il lavoro capita c'era il piccinero vicino al bianco il piccinero vicino al bianco ma dove? zio Pira dove ha sto vaso? vieni qua torna indietro bravissimo a posto porta fire porta? quale porta? porta no raga è una cosa strana l'avete visto? l'avete visto? avete visto che faceva così? nel gioco non lo faceva nella schermata mia di gioco non lo faceva lo vedevate solo voi dalla live io qua nella schermata del gioco non lo vedo ah ma è nata ma è nata vena affanculo va ma siete proprio dei coglioni cazzo mi ha preso un infarto di come si è bloccato tutto tacci vostro mi avete fatto prendere un colpo pensavo che esplodesse tutto ecco qua si è bloccato il gioco le frecce di chi erano diverse oddio abisso 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 le vedo ma che cazzo ne so Luca scusami porta fire axis fire axis beh ma questa è aperta che cos'è che non va le frecce dell'elevator e beh sono sbagliate oddio ma che cazzo ma sono giusto ma regà mi state a confondere non so sbagliate che cazzo dite ma andatevena cacava pensavo fosse la nuova lì invece il fantasmino della merda oh qui non cambia niente però ma che resta storia oh madonna che palle che siete video si 666 guarda proprio guarda che stronzi guarda ma basta che ansia la ho dell'insegna e non era così prima se sicuro perché secondo me non era così pure prima è un'agonia sì è un'agonia le piante sono giuste i tavoli pure cose pure buona serambe il quadro che cazzo so occhi ma che schifo è che cazzo è gesù cristo gli occhi che scendono dalle scale sta mano era così sta mano può essere vero allo sfondo rosso è il quadro della donna ah sì ma manca una finestra qua regà no sono cinque no sono cinque mi sono sbagliata io lo sfondo della donna dici che non era scusate me ah no il girasolo era giallo oggi non era giallo no ma che cazzo sto a volare allora zio per il fantasmello ghost e le vedo ok che era un girasolo è giusto qua non è mai successo niente mi sembra un po' strange ma là dietro che cos'è quel quadro c'è sempre stato top post il quadro del giratore nella holla ma quello c'è l'ho segnalato adesso non c'è niente regà e non c'è nulla è così è così è sempre stato così ma come pochi sabbam ma che sei a te in camera qualcosa c'è sta camera in camera regà è a posto cioè c'è tutto basta ti chiedo queste gomme porca troia grazie per i follo tiktok grazie mille il quadro con la mano c'è qualcosa che non va comunque non può essere tutto a posto la mano credo sia sempre stata così storta in basso a sinistra c'è una macchia scura ma in dove oh regà pure qua cioè secondo me è cambiato qualcosa perché non può essere ma tipo questo c'era computer uguale c'è sta sfuggire roba sì c'è sta sfuggire le porte del correttore sono piccole ma dici io sai che pure io c'è sta sensazione da prima che sia in prospettiva diverso cioè è cambiato o così o distortion o qualcosa che è già distorsione so che dire c'è qualcosa che non va nel bar in fondo a destra computer questa mano pure comunque c'è in fondo nel bar in fondo a destra in fondo a destra questi c'erano se è solo quando fa tipo ti cambia la prospettiva il cappotto davis il cappotto il cartello dell'ascensore ah già hunger depression è vero ecco che ha scritto depression acceptance ok ok sì 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 il cartello dell'ascensore è diverso qui continuo a vedere qualcosa che non va ma forse è la mia testa le sedie del bar erano già storte ore tre oddio oh madonna santa che cazzo è sto tizio oddio ma che no volevo vedere cosa succedeva ma come it's over ma l'ho segnalato sto pezzo sto pezzo ce l'ha buttato d'arcu ce l'ha buttato d'arcu l'hotel raga ce l'ha buttato presentamente d'arcu dritto dritto per dritto ma come mai scusa mi l'ho segnalato il tizio se vedi che c'erano troppe anomalie eh raga tosto va l'hotel l'hotel è tostarello volete rifarlo o volete provare qualcosa di diverso volete provare un'altra roba cioè volete che rifacciamo questo e proviamo a finirlo o volete fare un scenario diverso cioè anche se non lo proviamo a finire lo proviamo a finire la prossima volta tipo non è che dobbiamo finirlo per forza oggi insomma però se guardi in twitter muori solitamente si segnala da un'altra stanza ma con un nuovo sistema di rapporti non so ah è diverso ora piscina diverso piscinetta hotel no ma che siamo mo che siamo allenati ha senso però ha senso mi sa che ci abbiamo tempo comunque quindi possiamo anche provare a rifarla quella dai riproviamo perché almeno ci ricordiamo tutto se no anzi adesso è proprio il caso di vedere se era tutto uguale a come l'avevamo lasciato rosso verde era giusto 2c le cose che avevamo dubbi qual'erano le cose che avevamo no la porta è uguale la mano è storta ma questo è il suo modo eh sì dai dai adesso le sappiamo a memoria dai dopo facciamo pull alla prossima facciamo pull poi basta perché c'è perché c'è perché c'è un coccolone dai regà dio santo raga mi avete fatto prendere un infarto dai è masterata ormai la sappiamo a memoria sappiamo la sappiamo a memoria sì a memoria ciecati porco 2 continuiamo e finiamo questo poi facciamo pull mi pagate voi lo puesta c'è ragione alexone abbisso eh sì a me mi hanno curato così prima miss cioè pensavo fosse il gioco invece erano questi stronzi mi mandavano le cose il quadro era così tutto uguale ha fatto luce praticamente Luca bisogna aspettare ragazzi bisogna avere pazienza ma cambiano le cose elevators chi sarà stato chi ha si è stato te eh si è impallato il gioco vabbè sono 25 secondi 25 minuti che stiamo a giocare cioè che non so neanche minuti erano secondi effettivamente manca una finestra in basso a sinistra fuori le missi le missi no so cinque queste so giuste sapete se c'è qualcuno affacciato fuori oppure no qui c'è un problema di luce alla lobby let's go let's go let's go let's go insomma se avete condiviso likeato tutte cose belle grazie sappiate che ho un canale nuovissimo youtube a parte quelli di gaming che magari conoscete già ho aperto un canale nuovo di lifestyle sostanzialmente vita stile di vita nerd e quindi vi porto un sacco di cose interessanti ma soprattutto sto facendo una linea un format di video che interessano le live su twitch e quindi dove vi spiego magari delle dinamiche interne tipo come si guadagna sui social e il prossimo video che uscirà sabato e parlerà di una cosa importantissima che sarà un video mega importante con delle nozioni che io avrei voluto sapere un botto prima di iniziare a streammare e che quindi cioè può essere molto utile per chi vuole iniziare a streammare su twitch o comunque fare questo lavoro qua se lo fate come hobby sti cazzi cioè potete fare quello che vi pare però se volete tirar fuori qualcosa secondo me questo video potrebbe esservi molto utile esce sabato alle ore 13 e per di più per chi non c'era all'inizio che l'ho detto dato che comunque vi parlo anche della mia esperienza di come ho iniziato eccetera eccetera ci sono delle clip vecchissime di quando ho iniziato a fare le live il primo anno del 2017 l'ultimo video fa moda al commercialista oh Marica ma qua cambia un cazzo ma che d'è adesso appena dal signore ancora ne è venuta e mi sembra un po' no al bar una roba nera a fianco al pianoforte e no sono ste cose che tipo lampadario non si capisce che è la sedia al bar vicino al pianoforte sembra spostata vediamo la sedia al bar vicino al pianoforte sembra spostata questa questa dici non credo ma proviamo magari ne so però non mi sembra così tanto spostata cioè è un millimetro in caso no non è così tanto spostata dai miss un contratto che vi piacciono mi raccomando andatevelo a vedere sabato alle ore 13 esce soprattutto perché mi sono fatta un culo per editarlo sia per registrarlo perché comunque c'è tenere il punto della situazione tutti gli step c'avevo un sacco di cose da dire comunque e sicuramente alcune me le so lasciate per strada quindi non è stato né facile né registrarlo né editarlo ah raga oh a macchina se ne sta andrà dove cazzo va sta venendo a casa mia eh lo so adesso ve l'ho detto non era tutto un pezzo il tappeto della lobby il tappeto della lobby non era tutto un pezzo questo ah boh a macchina il gym se ne sta andrà si va un po' rilento sto giro forse perché sa che cioè che noi sappiamo già tutto quello che dobbiamo guardare quindi ci stiamo a concentrare meno sostanzialmente ci sta le due tazzine c'erano il computer era così tutto così mano era così questo è un cambiamai regalo tutto uguale era separato dicono eh cinque finestre sotto grazie 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 no la sete è cambiata nel bar la sete è cambiata nel bar ma è sempre uguale sempre ugual ma gli scenari quindi non cambiano gli eventi in che senso gli scenari non cambiano gli eventi la O della scritta sopra è sempre stata fulminata sembra cioè sembra che cambia dopo ma in realtà no oh io non vedo niente la sbarra del bar era aperta sì oh adesso è a pinolo è a pinolo è tornato è tornato a testa a pinola è tornata a testa a pinola il signore devo bere sì definitivamente e le vedo ora è qua un cambiancasso mister pinolo è tornato qui mi sembra sempre come se è impossibile che non sia cambiato nulla ma di fatto mi sa che non è cambiato nulla lo scopo del gioco sarebbe individuare tipo il gioco della memoria individuare se passando da una ecco in questo caso passando da una cam di sicurezza all'altra cambia qualcosa nella stanza qui per esempio adesso è 666 se lo vedi clicchi segnali e l'anomalia viene tolta perché è paranormale capito cioè tu stai sorvegliando perché c'è del paranormale in questo posto in questo hotel c'è ci sono fenomeni paranormali e tu devi individuarli non sai esattamente che cos'è che cambierà per questo devi stare attento devi guardare ogni dettaglio le cose che si spostano le scritte i quadri che cambiano le cose spariscono però essendo così ripetitivo diciamo e con così tanti oggetti è difficile capire effettivamente che cazzo è questo questo c'era raga questo nero così le frecce ah le frecce no le frecce sono giuste ma niente ragazzi ho scelto codomo perché significa bambino tutto qua non c'è una una vera filosofica descrizione motivazione sì i monitor delle casse c'erano sono tre ma erano così piccoli ma così piccoli raga ma così piccoli il vaso signor quindi stavo dicendo devi detectare e segnalare tutte quante le anomalie e resistere senza che i fenomeni paranormali prendano il sopravvento fino alle 6 del mattino quindi questo è lo scopo più si va avanti chiaramente verso le 6 verso la mattina e più i fenomeni paranormali iniziano a intensificarsi sono le due manca ancora un bel po' dice spenta vicino al leone no è giusta il leone sopra il leone è giusta questa è spenta questa è accesa normale fenomeno paranormario giustissimo cazzina cose ok nella stanza la cassa all'entrata la pianta scrivania stanza ma lo sai che pure io me la vedevano diversa la pianta è diversa a me sembrava diversa però dico boh vabbè no invece no manca il tavolo dove manca il tavolo nel bar oh maronna oh c'è su grì dove cazzo è andato il bar dove cazzo è andato il tavolo non il bar ok 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 ci sembio ci sembio altruc mainor ogni tanto guardiamo tutto 504 mi sembra tutto uguale è proprio il gioco della memoria bisogna osservare tutto quanto infatti devi andare in mare di testa dopo un po' non è mica facile anche lo sgabbello il poggiapiedi quale questi sono tutti giusti sgabbello qua quattro qua il cappello in camera da letto il cappello in camera da letto beh era diverso ciao loba eh lo stiamo giocando da un po' a me sembra uguale il suo cappello era diverso un colore un altro colore il cappello c'era raga mi fate segnalare a cazzo mannaggia la puttanella che perdiamo se segnaliamo a buffo tutto uguale il terzo sgabbello è girato ma erano girati in realtà già tutti girati so cioè erano tutti storti e ce n'era uno girato quindi è normale mica sto barro un cambia di pezzo no non c'erano le valigie era vuoto quindi è giusto che sia così sì il dito della mano dovrebbe essere uguale raga sì non so se sta mano sembra sempre sempre diversa ma in realtà non lo è l'entrata è diversa nel bar cioè tipo il tappeto dici no ma era così pure prima so cambiare delle bocce c'ha ragione che cazzo so coca cola è zero so cambiare delle richieste capito le esigenze coca cola coca cola al bar è una cosa strana e invece sì è vero non ci stanno coca cola al bar solo super alcolici comunque sì oddio il sangue sì che cazzo zio pera questo non c'è la prima è uscito adesso il carrello del corridoio qual è lo corridoio beh no è sempre stato così il carrello c'è un corridoio ah già il sangue appena segnalato sì infatti c'è minchia c'è del cazzo in sta mappa stressante fuori dalla porta c'erano entrambe le valigie nel carrello fuori dalla porta c'erano entrambe le valigie ma qua no non c'erano le valigie qua riga attention si comunque uno comincia ad avere allucinazione a un certo punto se inventa le cose le scale ci sono sempre state micchia sì il pc è acceso in camera il pc è sempre stato acceso con la schermata nera che poi come vi dicevo se segnaliamo troppe cose a vuoto che quindi effettivamente non so cambiate il gioco ci penalizza quindi attenzione se non siete sicuri ed è passata la terza ora prima siamo morti a quest'ora quindi già siamo arrivati a un buon punto aspettiamoci di tutto il carrello vicino alla macchina ha una valigia in più no no è giusto una bianca e una rossa così giustissimos giustissibus erano due anche prima a Dio De Geek che ho detto oh raga ma io mi chiedo ma venite a Romics perché io ci sono domani a Romics domani alle 17 quadiglione numero 5 mi trovate lì sul palco sì vabbè un po' più lontano sto curitoio cazzo ne so ma che è però effettivamente sì a me sembra sempre più lontano di fatto lo è il lavanderio del bar aveva due vaschette minchia che ne so vediamo no fermi questo non era così scuro non era così scuro sto bicchiere sì ci sono solamente domani al Romics padiglione 5 oh cazzo marbullitore minchia ma che cos'è che non era c'è qualcosa che non va erano così scuri questi sì comunque dicevo insomma mi trovate a Romics aspetta scusate tavolini non erano così bassi che cos'è no raga c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che non va quei tavolini che cazzo c'è non erano così bassi i tavolini ragazzi che cosa è successo che non va sto avendo allucinazioni sto gioco a caso allucinazioni si sono abbassati vedi no dai non è possibile c'è qualcosa che non va è anomali si sono abbassati frate palesi come faccio a segnalarli distortion bar c'è qualcosa che non va ma forse non è distortion no 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 sui tavoli che sono no sui tavoli che sono bassi non so però che cazzo è erano così c'è ma allucinazioni ufficialmente quindi a posto perfetto grandioso meraviglioso perfetto se lo daremo così cazzo cazzo è intruder aisle cazzo è cazzo 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 brutto terribile oh no oh no io pensavo avessimo perso mi stava prendendo il corpo era quella di prima fire exit fire exit era era fire exit era fire exit nascia la mignotta cazzo cazzo è che cazzo è abisso camera distortion ghost non è un fantasma santa madonna se stancazza ma cristi dio ma ho segnalato ghost non me l'ha preso basta mi ha rotto il cazzo oddio dici dovevo solo preme oddio capace dovevo solo preme già è vero dovevo solo preme forse no no non devo cambiare mai camera devo segnalare in qualche modo vogliamo fare l'ultimo vabbè lo proviamo la prossima volta se vogliamo fare l'ultimo possiamo fare l'ultimo se no si attacca a marcasio che cos'è che vi incuriosisce di più la piscina vede l'università rottercazzo sarà tipo l'hotel la piscina vabbè dai vediamo la piscina mi incuriosisce anche a me oddio no la piscina non è bella è una piscina sportiva bad 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 è qua brutta roba secondo me brutta roba mamma mia basta merda raga terrifying la piscina fare le streaming in bichini mamma mia mamma mia vedo duria pure sotto l'acqua vabbè frate cioè pure la sauna perfetto c'è il ciavatta asciugamano che è sta cosa il costume carpette corsette peolle pellotte una faccia sorridente questo c'è trichego e c'è il bambino che sta per entrare a notare sacchetta a sinistra shampoo shampoo due asciugamani ciabatte ci sono le ciabatte sento un rumore sembra la piscina di stranger things comunque io sento rumore ma credo che sia dell'acqua semplicemente che si muove o no lo scopo del gioco è trovare le differenze tra una telecamera e l'altra perché cambiano in continuazione e sopravvivere fino alle 6 del mattino c'è un timer qua era aperto o quest'ora chiuso? no era aperto sì molta ansia parecchia ansia vabbè ho segnalato male scusa scusas niente cazzo ciabatte ci stanno la finestra è qua oh c'è sta scorreggiare un fantasmino un fantasmino che scorreggis un fantasmino scorregino ok bella bella palla sott'acqua ci sta che si muova un pelino 1 2 3 4 so signora non è sopravvissuta la sauna mi sono rimaste solo le sciabatte una testa le sciabattella tutto a posto ha un bruttissimo mal di testa grazie per i follow tiktoks ma sta cosa che è su tubo l'orologio è a posto raga 5310 5310 vale il modello del telefono Nokia qua è facile che sbuchi qualcosa da qualche parte effettivamente costumello per borsettello carinello questi ragazzi sicuramente cambiano ora questi porta aperta dalla piscina ma questa non era aperta già mi sembra che fosse aperta era già aperta il telefono è distruttibile di noga voglia incredibile e distruttibile indistruttibile insomma chi di voi viene a Romics domani chi di voi c'è a Romics tra tiktok e twitch non lo so buonasera Enzo tavole di legno a terra in uno spogliatoio a me pare che cambia un cazzo lo so però io il panel ce l'ho venerdì ragazzi quindi venerdì al padiglione 5 alle 5 alle 17 mi trovate a Romics domani sì ragazzi Games Week ci sono tutti i giorni ho già preso biglietti hotel tutto sì Games Week sono quest'anno a Games Week mi trovate praticamente ovunque come vi dicevo sono ambassador quest'anno di Games Week quindi mi trovate tutti i giorni già assolutamente scriptato ma raga qua questo è diverso dai questo è diverso ora questo è diverso grazie Mischi grazie Mario per i curicini eh dai un po' un riflesso strano sulla superficie sott'acqua no normale riflesso dell'acqua finestra accesa in che senso questa dici non dovrebbe essere accesa è spenta no è accesa macchina doccia mi sembrano normali ci sono sempre state no è cambiato l'orologio non capisco che cosa segnala bassor orologio però perché è sballato ok oh Jenny grazie ciao bellezzina tu grazie mille grazie per il supporto ciao bellezza al volo minore ma che cosa so 5310 che va a segnare ah è un cronometro dici che sa che cazzo succede sotto all'acqua dopo comunque mi sembra un po' stranello tra l'altro scusate ma ste tavole di legno c'erano secondo me no oppure sì palese sì palese sì sì palese ok questo è il tornato giusto la finestra oddio ma non è che la finestra si segnala come luce e quindi sta a sbagliare per questo che non me la vede la porta sul fondo della piscina a sinistra c'era sì le cose sopra la panca sopra la panca la capra capra eh mo è chiusa però cazzo non deve essere chiusa deve essere aperta sto giro eppure questa scusa ma non era aperta sta porta era aperta qua la porta questa qua questa qui a destra ah la luce quando lampeggia non mi ricordo manco io forse sì in realtà i poster dite che sono cambiati? mi sembrano uguali che cosa vedete di cambiato? scambiati? sembrano uguali sì vabbè ciao una testa mi mancava zombino c'era zombino c'era sì 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 la porta forse era aperta non lo so regà non so quanto siamo? alle due ancora alla madonna frate se finissi e più qua il dei ciabatta il d'asciugamano a sinistra sotto il poster non c'erano le scarpe nello spogliatoio a sinistra sotto al poster sì queste le ciabatte c'erano seconda ora entriamo nella terza ora posteri in spogliatoio e questa che cazzo mi sa che non la dovevo segnalare così oh sì vedi allora pure quell'altro non era un fantasma dovevo segnalarlo così zio pera qua piedina scarsa ci ambettava hai visto? capito sotto la porta della piscina c'era sì sì mi pare sì sì la palla sotto l'acqua c'era comunque c'ha ha senso che sia così lento tra virgolette perché cioè durante tutta la notte non è che succede sempre tutto tu devi stare là e devi stare a vigile per tutto il tempo cercate di capire se cambia qualcosa capito? segnalarlo tra click intruso e fantasma non si capisce che si deve segnalare sì delle volte non si capisce bene non è chiarissimo cioè lo testi un po' sulla tua pelle capito? se fallisci ti attacchi al casio se fai giusto top e poi te lo ricordi però mi sembra strano che qui non sia la ciavatta allora era qui mi sa te sì mi pagano a far portiere da notte? eh cazzo guarda ho pure fallito ho pure fallito cusona a lucca non so ancora niente sinceramente a sto punto dubito a sto punto dubito perché sta passando troppo tempo e tra l'altro me la rischio grossa non so non è uscito niente tutto quello che è però anche se dovesse uscire io non so se mi conviene andare raga a lucca perché cioè se mi dovessi ammalaio a gameswick non posso non posso mancare questa panchina c'era? sì quindi per ora non è uscito ancora niente vediamo con con i giorni che passano si fa sempre tutto un po' all'ultimo però dubito fortemente regà sì no a gameswick non posso assolutamente mancare perché c'è c'è un'attività importantissima Luca Luca anche per questo non ci ho avuto attività perché già avevo gameswick in realtà quindi a prescindere mi dispiace un sacco eh grazie Saffona thank you baby Saffo 0 2 gift i dati a run sub tu capto 89 ho scelto una cazza qua skip to many anomalies no come to many anomalies sì ci stanno troppo anomalie stiamo a sbagliare qualcosa frate c'è qualcosa che non va non si stanno a concentrare secondo post sulla varietà a destra il risultato era blu aspetta il secchio era qua non era sotto il secchio no affanculo capito il poster dove sta il loro questo qua ma era più piccolo era niente regà non ce l'avemmo fatta però se posso dire dopo un po' sto gioco comunque te preme cioè te martella perché devi stare sempre costantemente sul pezzo e secondo me più di un'ora non riesci a giocarci cioè più di un'ora non ce la fai regà è così grazie franceschinella grazie mille coricello sì te massacra la vista poi devi stare sempre capito sul pezzo ti si vuole bene ciao latte macchiato grazie mille franceschina grazie ancora più di un'ora diventi pazzo noi abbiamo giocato un bel po' più di un'ora secondo me sono le 23 considerate che abbiamo iniziato a giocare dobbiamo iniziare a giocare noi abbiamo perso un po' tempo a cazzate stasera perché abbiamo visto i tiktok la eh sì te sminchi proprio la testa te sminchi infatti non ce la fai più no nove e mezza